Pochi minuti alle ore 8 e noi siamo pronti a ripartire con il VG21 Mattina. Ben ritrovati, buon lunedì, inizia il mese di luglio e inizia con una nuova rubrica. Siamo praticamente nel pieno dell'estate e noi con Antonio Salamandra vi presentiamo Belli d'estate, che è una rubrica che vi farà compagnia per il mese di luglio. Antonio, intanto ben trovato a te, alla tua ospite, che insomma è un'amica del VG21 Mattina, che ritroviamo. Eh sì, Annunzia Andretti, in diretta da Torre Annunziata, Annunzia nel suo centro, consulente di bellezza, esperta di bellezza. Ben trovata, Annunzia. Buongiorno a voi, ragazzi. È un periodo questo molto particolare, perché da un lato, come dire, c'è il trucco per le spose, per le cerimonie, dall'altro lato poi c'è il sole, che in maniera un po' più forte ci colpisce, e in un'esposizione ordinaria, ma anche quella straordinaria e intensa quando si va al mare. E in questa puntata vogliamo parlare con Annunzia Andretti di trattamenti al viso. Che cosa ci consigli per proteggere il nostro viso e quali trattamenti sono consigliati per la nostra pelle? Dunque, sfatiamo prima un mito sui trattamenti al viso. Ovviamente, i trattamenti al viso che si possono fare d'estate sono sicuramente la pulizia del viso, che anzi, d'estate, maggiormente bisognerebbe ricorrere a questo trattamento. Il mito da sfatare è che la pulizia del viso non toglie la bronzatura, non l'elimina. Insieme a questo trattamento, altri che si possono realizzare tranquillamente sono la radiofrequenza e anche l'ossigenoterapia. Ovviamente, insieme a tutti i trattamenti naturali di massaggi, ad azione tonificante, liftante per il viso, con l'utilizzo di prodotti essenzialmente idratanti e lenitivi. Se possiamo ripetere un attimo questi due tipi di trattamenti, la radiofrequenza e l'ossigenoterapia, se ci puoi spiegare che cosa sono, in che cosa consistono e perché poi sono consigliati? Allora, sono due tipologie di trattamenti non invasivi, non fotosensibilizzanti, quindi per questo motivo si possono regolarmente fare d'estate. Hanno l'azione di migliorare la muscolatura facciale, quindi anche stimolare il collagene e l'elastina, per cui tutte le donne over 30 possono tranquillamente realizzare questo tipo di trattamento senza problemi. È chiaro che Nunzia è una esperta di bellezza, la utilizziamo come nostra consulente, come nostro riferimento, ed è importante anche riferirsi a persone esperte del settore che ci dicano e ci diano un consiglio pratico e chiaro, soprattutto perché molto spesso si ricorre ad alcuni trattamenti dove si crede di averne un beneficio, quando invece poi gli effetti sono esattamente contrari ai benefici. e dunque per proteggere il proprio viso quali trattamenti sono assolutamente...